Siamo in attesa di informazioni definitive, naturalmente ci auspichiamo che la zona gialla sia in tutto Abruzzo, anche se in queste ore abbiamo visto che ancora qualche comune purtroppo dovrà rimanere in zona rossa. Però è naturale che quello che ci attendiamo innanzitutto è che si proceda all'interno dei comuni che entreranno in zona gialla in un'autorizzazione da parte delle amministrazioni per consentire a tutte le attività che svolgono attività di somministrazione, alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, pub, di poter esercitare la loro attività all'esterno senza di fatti andare a chiedere ulteriori autorizzazioni. Ecco, ci aspettiamo in questa fase un momento di cuscinetto che dia l'opportunità immediatamente di mettere i tavoli fuori in funzione della possibilità di poter riaprire. Un altro dubbio ce l'abbiamo per quelle aziende che invece non hanno spazi fuori, se possono non possono aprire perché sarebbero considerate attività di serie B. Quindi c'è un po' di confusione sulle indicazioni che fino ad oggi arrivano. Sicuramente quello che chiediamo alle amministrazioni è di adoperarsi immediatamente per autorizzare gli spazi all'esterno, cioè con una sorta di silenzio assenso nel momento in cui si fa una domanda senza attendere una risposta. È naturale che qui vive una regola che deve essere ben precisa sia da parte degli operatori che da parte della clientela. Massima attenzione perché rischiamo di procedere in un percorso inverso e questo non lo vogliamo. Naturalmente in quelle zone di forte presenza ci aspettiamo un'assistenza da parte delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione che non sia oppressiva ma che sia di autorizzazione all'interno di un contesto, quindi di contingentamento in alcune zone.